Il massimo finale è la presidiente che ha la propria 2000 punti, categoria ragazzina di 15.000, supera l'intero il primo inizio a 30 classificati al termine della gara e la modalità di assegnazione puntizio sarà la seguente, anno 7 supera l'intero il traguardo con il fine della campagna e la campagna 1-6 ha finito il vento di Paule. Attenzione a trete, punti validi per la vostra classifica, siamo a meno 6 dal termine. Due punti hanno concorrenti 4-10 e 6-1-3, a vita di Paule, e due punti hanno concorrenti del ginello del 34, la regia di Paule, e 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 di Paule, punti hanno concorrenti 5-9-6. Paule, dammi pure l'intero il carattesto, miti affettano in Paule, e di Paule, e di Paule, il piano di grande è una piaccia 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 per la testa della gara che sta sottraggiungendo in testa il canto l'anno scorso la campana, ovviamente per la pista della gara, punti validi, due punti per la concorrente per il 570, l'Italia Vittorino, Gussano, frittario, classifica a 9 centi, un punto per la concorrente 549, Calla Onicone, che si porta in seconda posizione per il 570, l'ultimo giro, qui avrà un grande importanza la valota finale, il superguardo del fisico. Sta avviando la fase di attività, il che trista da... Vai fra la forza! 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 Il primo giro, il primo giro, la final di numero 2, divina punti, la pagina, il quinto del traguardo limbarico per il primo giro, il punto in baio. Oltre! Godanna a due punti su questo traguardo, il numero 6, la scusca lì ha 571, la pagina... nella seconda... la sicurezza, il quinto scorrigo per il più, senza setta con un fatto. Capire il programma 5G al 4 a reale, che si può appunto disponibile per l'ultima trattata Grazie. 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 Grazie.